compagno nel gulag se sopravvive può tornare in azione ora sei nel gulag! lotta per tornare in azione! scontro in corso! mentre aspetta, apri dei tuoi bastardi! e se trovi qualcosa da lanciargli addosso, non fare i complimenti! scontro iniziato! preparati a combattere! sei il prossimo! vinci questo scontro e torni in prima linea! perdi e per te è finito! guadagnati la libertà! sopravvive! compagno cazzo tornerà alla base! ti sei fatto valere! preparati a rientrare in azione! occhio ai nemici! in movimento! allora compagno! Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. Sì, sì.